Una cucina mobile con forni e bollitori a bordo per offrire piatti caldi alle persone senza una casa saranno distribuiti dagli operatori e i volontari delle unità mobili progetto Arca e Angeli di strada già impegnati durante la pandemia per garantire pasti sani e irregolari a chi non ha la possibilità di provvedere in autonomia. L'idea della cucina mobile è andare incontro alle persone senza dimora per cui dove loro stazionano senza farle spostare per cui saremo in tutti i luoghi della città dove loro stazionano. Inizialmente iniziamo con 280 pasti a settimana, sicuramente implementeremo, per il momento è solo alla sera, a Roma stiamo anche sperimentando il giorno in alcune zone critiche di povertà per la distribuzione di giorno. Il problema del giorno è che loro si spostano per cui sono difficilmente reperibili. Presentata a Piazza Garibaldi e itinerante sul territorio, la cucina mobile nasce dall'impegno della Fondazione Arca Ollus che da anni lavora al fianco delle persone in situazioni di povertà ed emarginazione sociale. Arriva grazie a Fondazione Arca che ci aiuta, con la quale stiamo iniziando a immaginare una serie di progetti legati alla povertà. Noi siamo in un grande momento faticoso, la nostra città ha sempre più poveri e sono tante le azioni che stiamo cercando di mettere in piedi. La cucina mobile è una grande opportunità sia per cercare di educare le persone all'alimentazione sana, ma è anche un modo per tenerli sotto controllo, per capire le loro esigenze, i loro bisogni attraverso le unità di strada che comunque seguiranno il track food. Pasti caldi appena preparati con prodotti freschi e proposte diversificate saranno consegnati direttamente in strada. 270 le cene con primo e secondo a base di carboidrati a cui si aggiunge sempre una zuppa e un tè e altrettante colazioni distribuite in due serie a settimana. Ci sono campi rom o comunque situazioni dove necessita dare cibo, dove sicuramente ci avvicineremo. L'idea è addirittura fare una cucina, ne parlavamo stamattina con padre Loffredo, fare una cucina dove persone in integrazione lavorativa possano cucinare per la cucina mobile. Questa è l'idea futura, speriamo si possa realizzare. L'iniziativa permetterà ai volontari di monitorare i casi di maggiore fragilità, offrendo un pasto completo e all'occorrenza il dono di un sacco appelo. Sarà più facile creare legami di fiducia con le persone incontrate ed avviarle gradualmente in percorsi di accoglienza e reinserimento sociale.